Davvero interessante il confronto sui temi del fine vita del testamento biologico organizzato dal Comune di Sala Consilina, in particolare dalla consigliera Elena Gallo, presso l'auditorium Cappuccini. Oltre a portare sotto i riflettori i temi di strettissima attualità, l'incontro ha avuto il merito di mettere a confronto relatori prestigiosi e competenti che hanno affrontato la problematica da diverse angolazioni. Credo che sia un argomento di grandissima attualità. Il Comune di Sala Consilina non si è fatto trovare impreparato perché già ha approvato, addirittura prima della ufficializzazione della legge, il regolamento all'interno del Consiglio Comunale sul testamento biologico. Adesso c'è stata anche l'approvazione, quindi si tratterà adesso di limare gli ultimi dettagli con la pubblicazione della stessa nella gazzetta ufficiale. Un tema molto importante, molto delicato, che sicuramente come tutte le cose particolari e complesse dividerà l'opinione pubblica. Purtroppo, come in ogni argomento spinoso, si ha l'abitudine di affrontarlo dal proprio punto di vista, con il proprio background, il proprio bagaglio culturale, la propria religione, che fa la parte importante in questo discorso. Diventare lucidi, appunto, asettici non è una cosa facile, ma il tutto lo si può capire quando il problema non si vede, quando si conosce queste storie, questi pazienti, quando si tocca con mano, che problematiche vedono. E poi tutto è affidato a delle discipline importanti che gestiscono questa materia, come la terapia del dolore e le cure palliative. Sono due discipline fondamentali in cui serve una preparazione, una formazione importante per avere un margine di azione concreto. In particolare è molto duro l'attacco di Monsignor De Luca alle forze parlamentari, ormai giunte a fine mandato. Noi non condividiamo che all'interno di questa legge due dimensioni fondamentali, l'idratazione, l'alimentazione meccanica, cioè mangiare e bere del malato, vengono considerate due dimensioni di una terapia straordinaria. Noi crediamo che invece sia un intervento ordinario dar da mangiare e dar davvero a un ammalato. Questa legge è sorta ed è nata in un percorso parlamentare velocissimo, parlamentari che eppure non hanno avuto il tempo di riflettere sul taglio dei vitalizi, non hanno potuto votare la legge dello Iusso Sole, ma si sono preoccupati di darci una legge rispetto... Adesso il Parlamento, come al solito, è sovrano, ci hanno dato una legge dello Stato che era necessaria averla, ma ci sorprende tutta questa preoccupazione. Completamente diverso è il punto di vista dell'avvocato Francesco Di Paola. In questi giorni impegnato nella difesa di Marco Cappato, l'esponente dei radicali e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, sotto processo a Milano per aver favorito il suicidio di DJ Fabbo. È un processo che, diciamo, si è sostanzialmente creato nel tempo. Viverlo personalmente, dal punto di vista professionale, è assolutamente gratificante, però per me è importante esserci, soprattutto in quanto componente di giunta dell'Associazione Coscioni. Vuol dire che l'Associazione Coscioni è riuscita a portare avanti un tema che finalmente poi ha visto ieri un primo passo, perché quello è solo un primo passo, la legge sul cosiddetto testamento biologico, che però deve vedere l'inizio di battaglia per altri temi ben più importanti.